Non è soltanto la settimana chiave per dare una svolta al mercato, ma anche per conoscere il destino della Scandone Avellino in Europa. I bianco e verdi, fedeli alla Basketball Champions League, attendono di conoscere il proprio destino, se ci sarà una partecipazione diretta, come vorrebbe la proprietà, o eventualmente bisognerà passare attraverso i preliminari. Oggi l'organizzazione FIBA non soltanto comunicherà alle squadre partecipanti, ma darà anche delle conferme. Tra i nuovi team presenti ci saranno i tedeschi del Bamberg, gli inglesi dell'Ace Riders, la prima squadra inglese della Basketball Champions League. L'Italia sarà rappresentata da tre club, Rear Venezia, Scandone Avellino e, con tutta probabilità, la Virtus Bologna. La FIBA infatti è intenzionata ad assegnare una wild card alla club bolognese di coach Stefano Sacripanti, permettendo così allevunere di partecipare alla competizione continentale e consentendole addirittura, almeno così sembra, di strappare la partecipazione diretta senza dover passare al turno preliminare. Staremo a vedere quali saranno le condizioni imposte dalla FIBA e come si svilupperà questa nuova competizione. Ad inizio luglio invece ci saranno i sorteggi, delle qualificazioni e anche dei gironi.